Musica Auguri in musica all'ospedale San Donato di Arezzo per i dirigenti, i loro familiari, ma soprattutto per i pazienti. Abbiamo da anni ormai organizzato una serie di concerti che si tengono qui nell'auditorium. Oggi è un po' una giornata particolare perché i nostri musicisti ci hanno alletato anche nei reparti portando la musica in due o tre strutture. Sono stati in pediatria, sono stati in dialisi e in oncologia. Il concerto delle Sette Note, associazione che dal 2007 porta la musica all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo con la stagione musica al San Donato, ha visto la presenza anche del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. È il momento di fare gli auguri ai degenti, ai familiari di degenti che sono ricoverati nel nostro ospedale San Donato. E lo facciamo in un modo che porta serenità. Sentendo questa bellissima musica, quello che sentiamo alle nostre spalle in questo momento è la pastorale di Boccherini che Luca Provenzani e gli altri amici che si sono degli archi aretini, il gruppo Chimera si sono voluti chiamare, hanno proposto in vari reparti, adesso qui nella hall del San Donato, per allietare un po' queste giornate. Quindi è un messaggio di positività. Grazie. 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 Grazie.